Siamo in compagnia di Francesco Guariglia, vicepresidente dell'associazione Punta Tresino Buongiorno E di Ovidio De Santis, presidente dell'associazione Ricre Amici Buongiorno Ovidio, qual è il motivo che vi ha spinto a collaborare per questo carnevale? Il carnevale è nata come idea dall'associazione Punta Tresino Coinvolgendo anche l'associazione Ricre Amici Poi abbiamo stilato un programma ben dettagliato Francesco, qual è il vostro tema del carnevale di quest'anno? Allora, il tema che abbiamo scelto per il carnevale 2020 a Santa Maria È appunto Pulcinella e le maschere tradizionali italiane Appunto per riprendere un po' le maschere classiche della tradizione italiana E riportarle qui a Santa Maria Ovidio, come si svolgerà il carnevale quest'anno? Beh, quest'anno abbiamo due date Una a San Marco di Castellabate A cura dell'associazione Vivi San Marco Domenica 23 E martedì 25 a Santa Maria di Castellabate Una sfilata di carri allegorici e di maschere Partendo da Piazza Punta dell'Inferno Alle ore 15 e 30 Per proseguire per Viale Ortenzio Pepi Corrado Grande Piazza Matarazzo E ad entrare nel corso Matarazzo Preseguendo per Piazza Lucia Francesco, sarete gli unici a partecipare o ci saranno altre associazioni per questo carnevale? Sì, ci saranno altre associazioni In tutti i carri saranno quattro Ovvero il nostro, cioè Santa Maria e Lago Insieme Poi Alano, Castellabate e San Marco Quindi le associazioni che parteciperanno saranno Vivi San Marco Associazione Punta Resino e Ricreamoci La parrocchia Santa Rosa di Alano E l'associazione Paesanamento di Castellabate Ovidio, oltre alla sfidata dei carri Ci sarà anche in piazza l'animazione per i bambini? Sì, una volta giunti in piazza con i carri Ci sarà l'animazione a cura dell'organizzazione Napi Inoltre ci saranno le scuole di ballo Body Dance e Progetto Danza Che accompagneranno il carro con il tema Pulcinella E Espressione Danza che accompagnerà il carro di Vivi San Marco Francesco, invita le persone a partecipare? Sì, allora invito grandi e piccini a partecipare al Carnevale di San Marco Domenica 23 e martedì 25 al Carnevale Insieme a Santa Maria Mi raccomando, venite numerosi Grazie Ovidio Grazie a voi Grazie Francesco Grazie We Station Cilento Seguite We Station Cilento